Attenzione! Questo è uno spoiler dei primi episodi della seconda stagione di Soiluna! Chissà che succederà! Matteo, aspetta! Che ti succede? Tra noi due non c'è più niente. Io ho cercato di parlare con Matteo e credo che sia il momento di concentrarmi anche su altre cose. I miei sogni cercano di dirmi qualcosa. Luna scoprirà la verità! Questo è l'ultimo documento della nostra indagine. Lei deve essere la prima a conoscere la verità. Devo sapere chi sono, nena. Chi si crede di essere Luna? Quale sarà il nuovo piano di Amber? Matteo, come stai? Credo che dobbiamo parlare. Qual è il tuo piano con Matteo? Usarlo per riprendere il mio posto. Scopri come continua la storia nella seconda stagione di Soiluna. A maggio a Disney Channel. A Disney Channel puoi trovare la tua storia. La tua storia. La tua storia. Clicca e scopri di più su Soiluna nell'app di Disney Channel.